amici benvenuti sul mio canale in cui cerchiamo di parlare di orchidee o perlomeno ci proviamo rientro ufficiale delle vanda oggi rientro ufficialissimo perché domani sono previsti giorni di piogge e di abbassamenti di temperature questa è la solida vanda che vi faccio vedere oramai è in fiore da due mesi se guardate il video che nella playlist potete vedere da quant'è che in fiore due mesi che in fiore non accennano ancora si sono chiaramente rovinati con la pioggia con tutto ma fioritura spettacolare quella a fianco è l'altra vanda che era tipo manico della scopa poi vi faccio vedere qualcosa di importante oggi rientro ufficiale poi gestiremo le bagnature in casa e sotto lampada e sul lato della lampada più che sotto se no le le cuoccio questa è una lampada led da 100 watt vi facevo vedere sul video che si sono cresciute delle investanti le lasciamo lì tanto meno non danno fastidio l'ho bagnata questa mattina oggi gli ho fatto prendere l'ultima giornata di sole e sta benone sta benone anche perché qui c'è questa è la scottatura perché l'ho messa fuori a marzo questa è la dimostrazione che l'ho messa fuori a marzo non era abituata al sole e si è bruciata però ho salvato la pianta pianta sta benissimo quindi questa è colpa mia perché messa fuori da quando l'avevo presa a novembre dell'anno scorso quindi un anno che sta con me e l'ho messa fuori a marzo per dare più vita più possibilità di prendere umidità e l'ho bruciata perché terrazzo a este non era abituata poi me ne sono subito accorto e ho provveduto a cambiare posizione questa è la coiolina nuova ma passiamo al bastone il manico della scopa questa era una banda con problema scellare come ho detto negli altri video si tiene con questo fil di ferro con la quale l'ho comperata questo fil di ferro qui ha sotto la gabbietta quella nera c'erano zero radici la gabbietta nera mi serve perché essendo manico della scopa la gabbietta nera mi serve per tenerla ferma e questo è il bastone originale per tenerla ferma in questo vaso in cui ci sono inerti e sassolino di marmo ghiaia di marmo di carrara mentre in questo substrato come vi ho sempre detto c'è carbone vegetale quello per le grigliate non lo sposto perché c'è la radice quella la mano mia c'è il carbone per le grigliate e carbone vegetale e c'è tutto carbone vegetale nel vaso solo sopra a riempitura per garantire che facesse un po da tappo un pochino da tappo per non mandar via quell'acqua che il carbone invece tale eccolo qua carbone tutto carbone vegetale tutto un sacchetto di carbone vegetale versato in questo vaso da 30 ma solo da 30 mi sembra che sia 25 30 non ricordo più però erano i vasi più grandi che avevo a parte che facciamo subito la c'era un bigliettino ma questo forse dovrebbe essere da 25 questo è da 30 invece quest'altro siccome non c'era più radice non c'era più niente di niente di niente e praticamente ho fatto tutto quanto la pillo e sopra lo stesso ma il ghiaglietto di marmo serve solo per fare da tappa tappa tutto tappa sub strato finale in modo tale che quell'umidità che va dentro non me la non me la manda via subito anche quello è la stessa cosa se voi vedete andate a spostare sotto troverete solo che carbone eccolo qua carbone e carbone questo serve solo per dire una spolverata sopra di zucchero a velo che in realtà è un ghiaglietto di marmo e questa la storia mi porto al punto perché questa che aveva zero radici l'ho bagnata questa mattina e tengo il sottovaso solo per non fare un casino dentro casa quando le bagno questo l'ho messo per asciugare l'acqua in eccesso per non lasciare mai l'acqua qui siano le radici le buttiamo via mi raccomando quando arriverete a portarle in casa le bagnature fatele veramente molto meno rispetto a quando stavano fuori perché oramai tutto questo subestrato ha bisogno di asciugare quindi fuori c'è una ventilazione c'è un clima diverso dentro casa abbiamo bisogno di farlo asciugare quindi se bagnate anche una volta alla settimana guardate sempre le punte delle radici che indicano se la pianta è attiva o non attiva quindi ponte non ci sono quindi quasi spenta questa radice eccola qua vedete non ci sono ponte su questa radice qua lo stesso questa qui c'è una quantità minima questa qua è attiva guardate questa punta qui anche qua ci sono le radici poi vanno la sotto vedete che la radice buffa perché esce fuori dal vaso ecco me l'ha abbracciato il vaso adesso dentro riesco a farvi vedere meglio questa aveva zero radici ma forse proprio zero no io essere sincero un moncherino del 3 centimetri giusto per dire ancora ci sono ma vi voglio portare piano piano guardate che forza la natura le radici che vanno ad avvolgere il vaso quindi vuol dire che il vaso all'interno ha l'umidità giusta sennò le radici non andrebbero a spasso a zonzo vi porto al punto perché sono le cose che ho già detto nei video ieri portandolo a casa guarda che ti guarda non pensavo non pretendo che fiorisca perché in queste condizioni in cui sta è abbastanza provata perché ripeto senza radici e già tanto che l'abbiamo portata a noi oggi guardate cosa ho trovato e motivo per cui faccio il video guardate la questo che vedete qui è il getto floreale questo che vedete a fianco ve lo faccio vedere è l'altro getto floreale solo che non riesco a entrare con il come il telefonino però devo far vedere è troppo forte andiamo di qua eccolo la quindi abbiamo il getto floreale a sinistra di come sono io eccolo qua questo qua giù che vi sto facendo vedere questo il getto floreale da un lato andiamo di qua e qui abbiamo l'altro getto floreale dalla parte opposta anche questo questo eccolo qua abbiamo una destra e una sinistra questi saranno i futuri fiori quindi questo per dimostrarvi che riesco a farvi rivedere tutti e due eccoli forse li vedete da qua forse riuscite a vederli meglio da qua e ci metto una mano ecco una destra uno qui il getto floreale che uno qua i due oggetti floreale poi vi farò vedere vi documenterò tutta la situazione eccoli qua quindi questo era un manico della scopa la classica vanda che uno dice che gli faccio quindi stanno con me da un anno questa è la seconda fioritura una è avvenuta a giugno una è avvenuta poco dopo perché quella di giugno è arrivata fino agosto poi ne ripartita un'altra e quindi siamo sempre in fiore qua poi hanno detto i coltivatori che lavanda come fiore dura un mese qui siamo a due se andate a vedere la playlist e vedete che l'ultimo video risalente all'inizio la scelitura di di due mesi fa e questa porta alla bellezza di due getti floreali quindi quindi con le vanda potete far tutto importante che avete la costanza di non lasciarle la radice che va tenuta umida loro vivono a 80 90 per cento di umidità io 80 per cento o 90 ce l'ho solo quando faccio la doccia in bagno però il discorso è questo che nonostante tutto cerchiamo di di tenerle guardate come le ho messe questo è il video ufficiale del rientro a casa di queste due parametri ci sono affezionato questa è un lavoro light che sviluppa 100 watt non li ho messe in mezzo le ho messe ai lati quindi loro beneficiano di tutta quella luce laterale non è quella intensa centrale questa è la grow light della marse idro sviluppa quasi 100 watt e andiamo avanti qui ci sono tutte quante piante un po che devo vedere che fine fanno dei recuperi ma soprattutto non solo solo recuperi non ho più spazio c'è anche uno speggiosum che l'ho dovuto rientrare perché anche lui dice che vuole fare più che riposo vuole dire fuori qualcosa quindi lo lasciamo esprimere se vedete lì sotto allo speggiosum al dendropium è già un nuovo getto che sta venendo fuori stavano anche loro fuori però mi sono detto siccome arrivano le piogge e arriviamo a 8 gradi 6 gradi 5 gradi forse anche a 2 le previsioni dicono che arriva neve e di conseguenza se lui vuole fare quel getto lì questo getto che voi vedete qua giù questo qui bisogna che lo mettiamo un pochino a temperatura meno fredda rispetto a fuori eccetera eccetera guardate quanto è bella questa restrevia se non faccio danni quando è bella ma lei che spettacolo che fiore spettacoloso che spettacoloso bene niente vi avevo detto che vi avrei fatto l'aggiornamento per quello che riguarda levanda eccole qua fiori fantastici a di anticipo che questa è sul viola quella là è un colore veramente meraviglioso ma è un blu una cosa finta allora queste sono state fuori l'ultima cosa poi vi lascio perché ci sono sicuramente chi persone che gestiscono meglio ancora di come faccio io e sono arrivate fino a 7 gradi a 7 gradi e poi ci sono arrivate 7 gradi non tutta la notte cioè la notte che da 10 gradi all'ora di genna arriva poi alla mattina alle 7 non le ho tenute a 7 gradi fissi per tutto il giorno se no le vado un pochino a poi soprattutto lei che c'ha bisogno di curare lo stelo floreale non la vado eccolo la 1 e 2 non la vado a stressare bene vi chiedo il video era solo per dimostrarvi che oggi finisce per loro la festa povere vestiolette perché devono stare chiuse in casa e poi se ne riparlerà a marzo adesso saranno un po sacrificate però meglio così meglio così non posso fare grazie di avermi seguito e a presto